Salve amici siamo giocatori per caso facciamo l'incarico della settimana 13 dobbiamo scivolare mentre lanciamo delle bende un medikit o qualsiasi pozione scudo quindi trovate tutto cercate una salita e vi buttate giù in scivolata e li lanciate tre oggetti dovete lanciare di quei tre che ho elencato prima io ho lanciato tre scudi piccoli vedete e ho già finito la sfida questa sfida è veramente veramente veloce da fare la fate in un baleno se proprio non avete una salita potete costruire una rampa fatta di legno e usate quella per scivolare bene spero di esservi stato utile alla prossima se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche